A circa 50 metri dalla chiesa Santa Maria Maddalena è situata la piccola e suggestiva cripta basiliana dedicata allo Spirito Santo, realizzata dai monaci basiliani e scavata in un unico banco di roccia calcarenitica. Entrando nella grotta, costituita da un unico ambiente a forma quadrangolare, si nuota un pilastro centrale con funzione di sorreggerne l'intera struttura. È presente un altare ricavato da un unico blocco e posto sulla parete destra rispetto all'ingresso. Esso è sormontato dai resti di un affresco che probabilmente rappresentava il mistero della Trinità, il padre raffigurato con il triangolo sulla testa, il figlio seduto col croce fisso e lo Spirito Santo rappresentato sotto forma di una colomba. Da recenti studi si teorizza che la cripta, lungi dall'essere nata come luogo di culto italo-greco, fu inizialmente un tentativo andato a male di frantoio ipogeo, ripiegato successivamente al luogo religioso.